ecco perché vicario finisce a città non si laurea di fatti si richiede informazione con permesso no 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 vai vai ah si luigi con più città luigi con più città mistero plaffoff no no non puoi venire oh luigi a moste calma luigi con più città di leo di leo principe alto a luigi con più città di leo luigi con più città luigi con più città vai si sbaglia il signor boldi siete fatte le stragetti tant'è che l'altra serie te l'ho detto che questo è un pochette essendo due facce come me e strozza l'italia che cosa peggio della germania e peggio della germania alessandro alessandro vedi che anche tua moglie puzza di baronessa tu sei un minchio quando professore facci tausaaaaaaaaaaaaaa